Siamo in autostrada, corsia di sorpasso, lanciati a 120-130 km orari, quando all'improvviso vediamo la coda davanti a noi. Freniamo forte, entra in funzione l'impianto ABS e schiviamo verso destra nella corsia centrale, ovviamente per evitare l'impatto. Coda anche nella corsia centrale. Abbiamo ancora qualche metro libero e schiviamo nella corsia di destra, la corsia più lenta. Riusciamo a fermarci. La cosa importante è frenare velocemente e rapidamente il più forte possibile, mentre facciamo attenzione con lo sterzo, cercare di essere più dolci, per non fare due manovre brusche contemporaneamente. Quindi dolci nella schivata. Questo ovviamente per evitare una sbandata, visto che si alleggerisce molto il retrotreno, e quindi fermarci in tutta sicurezza. All'improvviso. 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 Yoko Hama, pneumatici pensati per chi guida.